Nel mondo di oggi, ferito da molti mali, è più che mai necessario che come cristiani testimoniamo insieme con rinnovata energia la luce della Pasqua, divenendo segno dell'amore di Dio, vittorioso nella risurrezione di Gesù. Così Papa Francesco incontrando una delegazione del Consiglio Metodista Mondiale. Durante l'udienza il Pontefice ha espresso soddisfazione per l'apertura a Roma di un ufficio ecumenico metodista, segno tangibile dell'intensificarsi delle relazioni e del comune desiderio di superare gli ostacoli alla piena comunione, così come pure per il lavoro della Commissione Congiunta Teologica. Un cammino fatto di dialogo che procede da quasi 50 anni e che a breve vedrà la pubblicazione di una dichiarazione comune. È vero che non pensiamo ancora nello stesso modo in tutte le cose e che su questioni relativi ai ministeri ordinati e all'etica molto lavoro rimane da fare. Tuttavia nessuna di queste differenze rappresenta un ostacolo che possa impedirci di amare nello stesso modo e di rendere una testimonianza comune davanti al mondo. La nostra vita nella santità deve sempre comprendere un servizio di amore al mondo. Cattolici e metodisti sono tenuti ad impegnarsi insieme per testimoniare concretamente in molti campi il loro amore per Cristo.